marta e vittorio lunedì 28 settembre al paradiso delle signore vedremo che marta e vittorio saranno sempre più propensi a fare di tutto per ottenere l'affidamento di anna per farlo però scopriranno che dovranno mettersi in contatto con la madre biologica della piccola punto marcello e salvatore invece si troveranno a fare i conti con un problema finanziario all'interno della caffetteria umberto invece terra informati i suoi parenti delle ricerche che sta portando avanti a new york allo scopo di trovare adelaide spoiler 28 settembre umberto contatta riccardo la trama della puntata del 28 settembre del paradiso delle signore comincerà con federico che continuerà ad essere arrabbiato con suo padre per la relazione clandestina con clelia il giovane però comincerà a nutrire dei sospetti anche verso sua madre in quanto non riesce a capire come faccia la donna ad accettare tutto questo il giovane cattaneo inoltre si nervosirà anche con roberta in quanto crederà che la venere sia sempre stata a conoscenza della relazione tra la ragioniere e la capocommessa punto a villa giarnieri intanto arriveranno notizie da parte di umberto il commendatore sarà arrivato a new york e sarà alla ricerca di adelaide riccardo verrà informato di tutti gli ultimi spostamenti del padre ludovica invece sarà entusiasta di capire a che punto sia il suo abito da sposa agnese e gabriella ci stanno lavorando duramente pertanto la fanciulla si aspetterà che sia pronto quanto prima la decisione di marta e vittoria al paradiso delle signore nel frattempo vedremo che maria verrà assunta al paradiso delle signore nella puntata del 28 settembre in sartoria ormai non si potrà più fare a meno della pull easy su di un altro versante invece marcello e salvatore si troveranno a fare i conti con alcune difficoltà economiche riscontrate in caffetteria i guadagni purtroppo non saranno quelli sperati a tal proposito armando proporrà ai due protagonisti di acquistare delle biciclette in modo da formare una squadra di ciclisti punto marta e vittorio dal canto loro non si daranno per vinti dinanzi il primo intoppo sull'adozione della piccola anna per tale motivo verranno informati che l'unico modo per riuscire ad ottenere il loro obiettivo è quello di mettersi in contatto con la madre biologica di anna nella puntata di lunedì infatti vedremo che i due coniugi si metteranno sulle tracce della donna misteriosa la loro preoccupazione ovviamente sarà che una volta trovata la donna potrebbero sorgere ulteriori problemi punto segui contro cultura su instagram clicca qui ciao 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 ciao